Il parrozzo è il dolce più caratteristico dell'Abruzzo, nato come dolce natalizio negli anni venti per iniziativa del pescarese Luigi D'Amico, che si ispirò all'antico pane delle mense contadine, a crosta scura, cotto nel forno a legna e a pasta gialla per l'impiego della meno pregiata farina di mais. Scegliendo uno stampo a cupola che ricorda le tradizionali pagnotte, venne realizzato il dolce e il D'Amico chiese a Gabriele D'Annunzio, che frequentava il suo locale, di tenere a battesimo la nuova creazione. Venne così coniato il nome parrozzo, vale a dire pane rozzo, laddove l'aggettivo era inteso nel significato di schietto e sincero. D'Annunzio dedicò al dolce anche un sonetto dialettale. «E' tante bone, stuparrozze nove, che pare na pazzie de sancia te, ci avesse messe a su gran forne, te la terre lavorata da l'ubbove, la terre grasse e lustre che se coce, e che dovente a poche a poche chiudoce de qualunque cosa doce.